Nel servizio di Loredana Cintioni, che abbiamo appena visto, non parlavamo del rapporto annuale dell'Ina, e lo avete visto, del quale invece si occupa il servizio che va ora in onda, ed è di Simonetta Eppoliti. Trasporti, agricoltura e edilizia sono i settori in cui si sono verificati più incidenti mortali sul lavoro nel corso del 2011 nelle Marche, incidenti che complessivamente sono aumentati in modo preoccupante, di circa il 70%, passando dai 27 del 2010 ai 46 del 2011. È quanto emerge dal rapporto regionale annuale dell'Ina il presentato questa mattina ad Ancona, anche se complessivamente gli infortuni sul lavoro nel corso del 2011 nelle Marche sono diminuiti del 7,6%. Questo dato va analizzato e va specificato che in realtà gran parte di questi infortuni mortali non si sono verificati sul luogo di lavoro, ma per strada. Ovviamente anche in questo ambito va distinto gli infortuni che si sono verificati per strada in occasione di lavoro, tipo gli autotrasportatori o categorie simili, e quelli invece che sono dovuti ad infortuni in itinere. Certo, la cosa non è per questo meno preoccupante, ma quello che voglio sottolineare è che all'interno dell'ambito lavorativo non c'è stato un aumento degli infortuni e questo ci fa ben pensare su quelli che sono stati notevolissimi investimenti anche in prevenzione e anche l'attenzione che hanno avuto le imprese nell'andare anche ad usufruire degli sconti e delle agevolazioni messe a disposizione dall'Inail per rafforzare la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro.